Finalmente siete arrivati Ciao Claudio Parla con me ragazzi, ha capito chi è il capo qua, bene Parlo con te, perché abbiamo una cosa in comune Lo stesso taglio di capelli E' simpatico Fa lo spiritoso, eh? Come ti chiami? Icab Quanti anni hai, Icab? Dieci Nonostante i dieci anni sei già alto come Luciana, vedo Fai molto ridere, scusalo, è un cretino Sbattere palpebre Senti, cosa fai? Vai a scuola, fai l'elementare, immagino, dieci anni Io so già tutto, sono un'intelligenza artificiale Facciamo una prova? Vediamo 1730 per 8390 14 milioni 514 mila e 700 Verifico E' giusto Veramente? Sì Vabbè, vabbè Radice quadrata di mi bemolle Mi hai preso per pirla? Mi piace Dimmi da dove vieni, che cosa vuoi da noi Vengo da Genova, Belin Belin Claudio Claudio Attento Non si picchiano i bambini E allora, sali, se hai coraggio Vabbò, se è così spocchioso, picchialo fallo nero Hai tu la testa più lucida del robot, Claudio Ma è un incubo terribile questo Quando mangi la peperonata di sera Ma perché è Tai Chi e quindi è equilibrio puro, no? La ricerca dell'equilibrio, la calma Che bella immagine Esatto Claudio, fai schifo rispetto a lui Gravi! Gravi! Bravo, Claudio Bravo lui, soprattutto Ma io immagino che non sia una finta Ci sia dietro qualche ingegnere, vero? C'è qualcuno di Genova, davvero? E' di qua E' quello Mannaggia! Quante intelligenze per farne un artificiale Raccontateci qualcosa, se volete Il progetto di ricerca nasce a Genova E' stato costruito per studiare l'intelligenza artificiale In questa esibizione abbiamo fatto vedere delle capacità di movimento Lui ogni millisecondo calcola il movimento di tutti i suoi motori E ne ha 53 per rimanere in equilibrio a fare quei movimenti lì Ma questo per esempio nella medicina può essere una scoperta pazzesca? Questa tecnologia qui è già diventata ad esempio un progetto di prostetica Quindi la mano è diventata una mano per sostituire una mano a chi non ce l'ha più Che meraviglia! Noi dovremmo votare pure questa persona Ah sì, allora torno a essere giudice, scusate Non solo penso che sia più intelligente di Claudio Ma anche più intelligente di me Quindi per me è sì Un sì che non basta Luciana Per me è assolutamente sì Due sì Per me è sì E allora quattro sì Ciao iCup Ciao Claudio Ciao ragazzi Vi è piaciuto questo video? Pensate di saper fare ancora di meglio o addirittura di meritarvi un Golden Buzzer? Allora dovete iscrivervi ai casting per la prossima edizione di Italia's Got Talent Andate su questo sito oppure chiamate questo numero Vi aspettiamo Ciao Ciao